Il video che vi porto oggi parla di UFO che staziona sopra la grande piramide di Cheope emettendo dei strani suoni. Bene, ora andiamo a vedere il video in questione. Grazie. Bene, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella. E se vi fa piacere a lasciare anche un commento.